Il lavoro è lungo, chiaramente. Per dare una risposta più completa a queste stanze. Quindi, uno dei punti è che chiaramente vengono reperiti dei parcheggi destinati ai residenti, perché qua noi abbiamo fatto uno studio e qua nella sola area pedonale il dirigente del comune ci ha presentato una carta sulla dislocazione dei parcheggi. Per questo ci sarà poi un intervento risolutivo. Però mettiamoci insieme innanzitutto per creare un quartiere che facciamo in modo che non ci possano venire solo quelli con i soldi che magari hanno le Filippine.